Eugenio Facciolla, già procuratore di Rossano, poi rientrato alla Corte d'Appello di Catanzaro, sarà il nuovo procuratore di Crotone. Vincenzo Luberto, PM di punta della DDA, diventa procuratore aggiunto destinato a coordinare le indagini antimafia sui territori di Lamezia Terme e Vibo Valencia. Marisa Manzini, figura simbolo dell'antimafia nella provincia di Vibo Valencia, passa dalla procura generale di Catanzaro alla procura di Cosenza nelle vesti di aggiunto. Valzer di magistrati, quindi nel distretto giudiziario del capoluogo di Regione. Le progressioni e i trasferimenti d'ufficio sono stati decretati con il consenso unanime della Commissione Incarichi Direttivi del CSM. Una formalità, pertanto, appare il pronunciamento del plenum nell'organo di autogoverno dei magistrati. Eugenio Facciolla a Crotone prenderà il posto di Raffaele Mazzotta, neo sostitututo, procuratore generale di Catanzaro al posto di Santi Consolo, neo direttore dell'amministrazione penitenziaria. Vincenzo Luberto prenderà possesso dell'ufficio, lasciato vacante dal collega Giuseppe Borrelli, trasferitosi nelle vesti di aggiunto alla procura di Napoli. Marisa Manzini, quello di Domenico, ai Roma. Anche egli oggi a Napoli si tratta di tre magistrati, Facciolla, Manzini e Luberto, che in questi anni sono stati in grado di rappresentare alcune delle più alte espressioni della lotta alla mafia in Calabria.